Ben trovati sul canale 15 per l'informazione regionale di Esperia TV, daranno una mano ai colleghi calabresi per far ripartire la sanità sono i medici cubani reclutati dal presidente della regione commissario per la sanità Occhiuto nello scorso mese di agosto tra qualche giorno inizieranno a lavorare il presidente oggi ne ha parlato ricevendo in cittadella l'ambasciatrice di Cuba. Il presidente della regione Roberto Occhiuto ha accolto in cittadella l'ambasciatrice di Cuba Mirta Granda Haverhoff ed il primo contingente di 51 medici cubani che insieme al personale locale lavoreranno per migliorare gli indicatori sanitari della popolazione calabrese. L'intesa consentirà di utilizzare temporaneamente i camici bianchi del paese caraibico circa 500 per almeno sei mesi ulteriormente prorogabili nelle strutture ospedaliere in forte sofferenza per carenza di medici. Noi abbiamo utilizzato le opportunità offerte da un accordo di cooperazione fatto dal governo cubano e dalla Commissione europea già nel 2017 e poi un varco normativo che ci dava la possibilità di utilizzare medici cubani. Da lì in poi sono generate tante polemiche, le avete registrate e tanti intoppi burocratici. Alcuni ci hanno consentito di fare un accordo ancora migliore rispetto a quello che avevamo previsto. Altri intoppi burocratici provenienti da diverse amministrazioni dello Stato hanno rallentato questa operazione. Siamo contenti però che oggi ci siano 51 medici cubani capaci di assicurare che i presidi ospedalieri dove è più difficile trovare dei medici rimangano aperti. Queria risaltare qualcosa che dice il Presidente. Continuare qualcosa che dice il Presidente. Si è creato un nuovo modello, un nuovo sistema e tutto ciò che è nuovo crea inevitabilmente polemiche, crea ostacoli. Siamo sicuri che queste difficoltà ci saranno di aiuto perché già abbiamo individuato a questo punto un cammino, una strada per risolvere in futuro, per lo sviluppo ulteriore dell'arrivo di noi medici. Ottiamo pagina alle infrastrutture. Prosegue l'impegno di Anas nell'aumentare la sicurezza della propria rete stradale. Su Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 25 bandi di gara per un totale di circa 1 miliardo e 800 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Si tratta di interventi per il potenziamento e la manutenzione programmata della rete anche attraverso nuove tecnologie nell'ottica di innalzare sempre più gli standard di sicurezza. Tra gli interventi vi è quello relativo alla manutenzione e messa in sicurezza dello svincolo che va dall'aeroporto Sant'Anna di Sola Caporizzuto allo svincolo di Papanice, frazione di Crotone. Il tutto per un importo di circa 29 milioni di euro. A proposito di finanziamenti, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono dei fondi che saranno destinati al riuso dei beni confiscati alla criminalità in Calabria. Si tratta di 59 beni. Sono 59 in Calabria i progetti per il riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata a fronte dei 128 presentati nella regione che hanno ottenuto il via libera nell'ambito dei finanziamenti del PNRR con pubblicazione nel decreto dell'Agenzia per la coesione territoriale. La dotazione finanziaria dei progetti fa sapere il coordinamento regionale di Libera, che ha analizzato i dati, è di quasi 58 milioni di euro per 35 enti territoriali, pari al 19,3% delle risorse totali. 254 sono i progetti complessivamente finanziati che coinvolgono 166 enti destinatari di beni confiscati in sei regioni del sud, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il passo successivo, è detto in un comunicato della Segreteria regionale dell'Associazione, vedrà la pubblicazione della graduatoria entrando nella fase operativa che dovrà portare all'esecuzione degli interventi progettati dai comuni. Sarà fondamentale monitorare con attenzione questi percorsi perché i finanziamenti a disposizione vengano impiegati presto e bene. Mettere a disposizione dati chiari e accessibili è il primo passo per garantire la piena conoscibilità di questi percorsi. Incrociando questi dati, si legge ancora nel comunicato di Libera con quelli sulla trasparenza degli enti di adempiere all'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei beni confiscati trasferiti al loro patrimonio indisponibile, tra le regioni più virtuose sulla trasparenza dei dati è intesa la Campania, con un punteggio di 35.9. Seguono la Puglia con 28.0, la Calabria con 18.9, la Sicilia con 16.8 e l'Abruzzo 14.7. Chiude la Basilicata con un ranking pari a zero. A livello territoriale, tutte le regioni del Mezzogiorno presentano un numero di occupati inferiori al numero di assegni pensionistici erogati. Della serie in Calabria al sud si pagano più pensioni che stipendi in termini assoluti. Le situazioni più squilibrate si verificano in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Lo sostiene la CGA di Mestre. Se il 2022, l'anno che praticamente si chiuderà domani, è stato l'anno delle riaperture, il 2023 sarà l'anno dei cantieri. Così il sindaco di Crotone Enzo Voce questa mattina tracciando il bilancio della sua amministrazione dal comune Luigi Saporito. Conferenza stampa di fine anno da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Vincenzo Voce ha snocciolato tutti i lavori messi in cantieri in questi due anni. Sono stati due anni difficili, due anni nella quale l'amministrazione comunale ha davvero messo mano a tanti progetti che erano chiusi nel cassetto da tanto tempo. C'è da aggiungere poi questo accordo strappato ad Eni con 17 milioni di euro che saranno spesi in favore della città e poi ancora ha sollecitato la raccolta differenziata e soprattutto, come ha puntualizzato il sindaco, questo è un momento davvero storico per il rilancio di questa città. Sentiamo Vincenzo Voce. Due anni difficili perché il lavoro che abbiamo fatto magari i cittadini non l'hanno visto. I risultati sono arrivati, siamo presi come modello su tutto ciò che abbiamo fatto sul PNRR, 30 milioni già finanziati, su altri bandi siamo in attesa, come quelli del Mite, ma 6 milioni e 2, abbiamo fatto vedere il progetto della nuova piscina comunale, già finanziata ed è in corso il progetto esecutivo e tra giugno e luglio andremo a gara. Così come l'Aria Sensi, il terzo lotto del lungomare, Crotone sarà un cantiere, non ci fermeremo e soprattutto ho evidenziato gli aspetti legati al POB fase 2, a questo accordo unico che abbiamo chiuso. Quindi quasi 17 milioni di euro extra bilancio che serviranno a fare opere importanti come il raddoppio della Tufolo Farina, il ripristino dei serbatoi di San Giorgio e soprattutto, non l'ho detto, un progetto periferie di almeno 2 milioni di euro nei prossimi 4 anni per portare un po' di vivibilità a queste periferie che sono abbandonate da 20 anni. E poi ha puntualizzato molto, ha sensibilizzato la popolazione, fatela, differenziate perché è importante. Stiamo predisponendo ma lo faremo in tutta la città perché Acrea ha fatto la gara per la terza volta che ha visto partecipare alcune aziende per cui rimuoveremo questi orribili cassonetti dalla città e arriveranno nuovi mezzi, a quel punto non ci sarà nessuna scusa. Lei ha detto che è un momento storico per la città questa. Ma è un momento storico perché ci sono delle congiunture straordinarie. Per l'ente raddoppieremo alla fine del mio mandato il numero dei dipendenti, assumeremo operai, polizia municipale. Guardate, i cittadini, io lo so benissimo che chi percorre via 25 Aprile o via Roma non vede un vigile urbano. Ma sono rimasti in... erano... ne ho trovati 29, ho assunto i primi 5 dopo 34 anni ma ne assumeremo tanti altri. Restiamo a Crotone perché anche Confindustria ha tracciato il proprio bilancio attraverso il presidente Mario Spanò. Chiudiamo il 2022 con previsioni purtroppo negative per il sud del paese, che saranno ancora più pesanti per la Calabria e per il nostro territorio, in cui accanto a concrete opportunità di sviluppo permangono ancora forti fragilità. Lo dice Mario Spanò, presidente Confindustria a Crotone, in relazione ai dati della Svimez. Nell'ultimo rapporto viene descritto un sud Italia in recessione nel 2023, schiacciato tra gli effetti della guerra in Ucraina, della crisi energetica e dell'inflazione. Uno scenario complesso in cui aumentano i divari tra nord e sud e la difficoltà delle imprese meridionali ad agganciare il treno della futura ed auspicabile riflessa. Dopo la pandemia, aggiunge Mario Spanò, siamo chiamati a continuare a reggere l'onda d'urto, questa volta del caro energia e dell'inflazione. Dobbiamo come sistema territoriale fare in modo che tutte le misure e gli investimenti pubblici previsti vengano realizzati e producano non solo spesa, ma soprattutto valore. Lo diciamo da tempo, senza imprese e giovani risorse umane non si costruisce nessun futuro. Infrastrutture, mobilità e valorizzazione delle ZES, servizi base ed innovativi per le imprese in aree industriali e produttive efficienti, progetti di territorio per la valorizzazione culturale, turistica ed agroalimentare. Buona sanità per poter scegliere di curarsi nel proprio territorio. Queste le priorità per Confindustria Crotone. Ci auguriamo che dalla riforma del PNRR arrivino soluzioni chiare ed efficaci. Il prossimo avvio del Pol Calabria 2021-2027 potrà essere un importante veicolo di sviluppo per imprese e territori, se gestito in ogni sua fase con la dirigenza e l'efficienza necessaria a superare una fase di recessione. L'auspicio per il 2023, conclude Spanò, è che le amministrazioni locali ed il partenariato sociale trovino nel confronto, sempre rispettoso dei reciproci ruoli, la modalità più utile ad affrontare questa ennesima fase critica ed a costruire valore per il futuro. A proposito di futuro, novità per gli esami di maturità, quelli che verranno, quelli del 2023, ne ha parlato il Ministro dell'Istruzione e del Merito. Un salto indietro di cinque anni. Si può definire così l'esame di maturità che attende i ragazzi tra poco meno di sei mesi. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista alla stampa, ha annunciato che si torna all'era pre-Covid, dunque alla legge del 2017. Ci saranno due prove scritte e un colloquio interdisciplinare, spiega il Ministro. In particolare, sulla modalità di svolgimento dell'orale, Valditara annuncia una circolare. Deve valorizzare le competenze degli studenti e verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie. Non deve esserci l'interrogazione in italiano, in greco o in matematica. Le competenze disciplinari la scuola le ha già accertate con il giudizio finale che ammette all'esame di Stato. Per quanto riguarda gli iscritti e in particolare la prima prova, Valditara spiega che ci saranno tracce che presumeranno la lettura dei giornali o la lettura dei libri. Il mio invito ai ragazzi è a partecipare e ad essere informati sulla vita pubblica e su ciò che accade nella società. Purtroppo in Italia si leggono pochi libri e pochi giornali. Questo è uno dei temi su cui la scuola e tutte le istituzioni devono attivarsi maggiormente. Il Ministro dell'Istruzione dichiara anche che non sarà necessario avere completato l'alternanza scuola-lavoro per essere ammessi alla maturità nel 2023. La normativa prevede un monte ore che per il Covid molti studenti non hanno potuto rispettare. E dai giovani che saranno alle prese dunque con i nuovi esami di maturità, i giovani che invece hanno studiato, si sono professionalizzati, si sono specializzati e adesso si mettono in gioco aprendo ad esempio una residenza per anziani e una struttura che ha aperto i battenti a di solo di Capolizzuto. Taglio del nastro e partenza dell'attività Ad isola di Capolizzuto, per iniziativa di tre giovani professionisti, ha aperto i battenti il Giardino degli Aranci Senior Housing. Si tratta di una residenza per anziani situata in pieno centro. La struttura è un'antica villa di fine ottocento, arredata finemente con cura e attenzione, sì nei minimi particolari. Una comunità alloggio per persone over 65 autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Intanto ci spiega come è nata la vostra idea. Allora la nostra idea nasce circa due anni fa da un'esigenza che comunque parte da noi, tre ragazze professioniste che praticamente vedevamo che i nostri nonni, i nostri anziani avevano bisogno insomma di avere un posto per riprendere la loro vita sociale, per stare in compagnia e quindi ci siamo riunite insieme ai miei colleghi e abbiamo appunto pensato ad una struttura così. È una struttura all'avanguardia, quindi daremo il nostro contributo per farli sentire il più giovani, il più al loro agio possibile. Una struttura dall'aspetto molto familiare da un lato e molto ospitare dall'altro, probabilmente è questo ciò che chiedono gli anziani. Certo, sì. Noi abbiamo la nostra struttura e ha la capienza di sei camere da letto, tra cui cinque doppie e una singola, con tutti i servizi e con tutti i comfort per le loro esigenze. Poi c'è questo meraviglioso giardino degli aranci, insomma soprattutto dalla primavera in poi potrà essere uno spazio aperto molto molto vivo. Sì, appunto è stato studiato per passare le loro giornate all'aperto e per vivere la socialità al miglior modo possibile. La cosa che non deve sicuramente mancare è l'assistenza alla persona 24 ore al giorno con personale specializzato. Sì esatto, avremmo quattro os specializzati per assistere i nostri ospiti 24 ore su 24. Intanto lei voleva aggiungere qualcos'altro. Gli ospiti nella nostra struttura potranno usufruire dei vari servizi, saranno intrattenuti e impegnati durante le loro giornate in vari laboratori, laboratori culturali, ginnastica, ginnastica posturale, uscite, uscite culturali e non. Quindi avranno modo di trascorrere appieno le loro giornate, non si sentiranno da soli e lo scopo è proprio questo, quello di cercare di non far sentire loro la solitudine che hanno avvertito soprattutto in questi due anni e non solo. Per cui il nostro auspicio è quello proprio di riuscire a impegnarli il più possibile con le varie attività e tutto quello che può farli tornare a sentirsi parte attiva della società. Quando chiedevo a mia madre, dov'eri tu? Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi e continuavo a pensare Mi manchi tu Una di cronaca tra i giovani di Bottricello, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Sellia a Marina per trasporto di materiale esplodente oltre il limite consentito. Durante un controllo stradale si è scoperto trasportassero in automobile materiale pirotecnico del peso complessivo di circa 50 kg ben al di sopra del limite di legge che è di 25 kg. I botti acquistati a Pomigliano d'Arco nel napoletano ovviamente sono stati sequestrati. Ed ora Catanzaro, tempo di bilancio per il Museo Marca. Una conferenza stampa voluta per fare il punto sulla gestione del Museo Marca pochi giorni dallo scadere della convenzione è partita nel 2015 con la provincia di Catanzaro guidata all'epoca da Enzo Bruno che ha segnato la direzione artistica Rocco Guglielmo che con la sua fondazione ne ha gestito la programmazione culturale. 52 mostre, 20 altri eventi espositivi, 20 eventi culturali quali meeting, congressi e anche nazionali, incolte culturali e presentazione di libri oltre i 120, 40 rappresentazioni teatrali, tre residenze di artisti e oltre 30 laboratori per le scuole, oltre le visite delle scuole, secondo un protocollo che era stato firmato all'inizio del 2015, a maggio 2015. Quindi il bilancio, penso, positivo. È stato un luogo frequentato dai più grandi curatori italiani, da artisti locali ed internazionali. È stato fatto, penso, un bel lavoro, grazie non solo alla fondazione, ma grazie anche a chi ha collaborato con la fondazione. Mi riferisco all'associazione Dico che ha gestito egregiamente il museo per le attività culturali collaterali e anche alla stessa Gisa che ha gestito i servizi di vigilanza del museo. Quindi devo dire che il bilancio è sicuramente positivo. La convenzione, in scadenza il 31 dicembre, dalla provincia di Catanzaro guidata dal presidente Amedeo Mormile, non partono segnali che possono far pensare a una prosecuzione della collaborazione con la fondazione. Nel silenzio totale dell'amministrazione provinciale è giusto che venga messo in evidenza che l'eventuale assenza di programmazione nei primi mesi del 2023, primi o ulteriori mesi, non è una cosa da imputare alla fondazione perché finisce la convenzione. Quindi siamo stati nell'impossibilità di pensare ad una programmazione per il 2023. Da Catanzaro al centro storico di Crotone per una serata dedicata a ricordo di Gianni Versace e indimenticato stilista italiano e calabrese, un salotto culturale organizzato dalla Boutique Vitale. Una serata per ricordare Gianni Versace, eclettico e geniale creatore di moda, probabilmente l'unico calabrese che ha dato lustro alla propria terra nel modo del fashion. Un ricordo voluto fortemente da Angela Vitale e da Ernesta Silipo che ha trovato accoglienza nello splendido chiostro della chiesa di Santa Chiara, nel cuore del centro storico a Crotone. Francesco Veri ha presentato il libro di Toni di Corcia sulla vita di Versace. Ha sapientemente moderato la serata da profondo conoscitore dello stilista nato a Reggio Calabria, rappresentato nel chiostro con una trasposizione artistica del celebre artista di Murales Iorit. Abbiamo pensato questa sera di dare un grande omaggio al mitico Gianni Versace. Tra l'altro è una figura appunto della Calabria che come dice il messaggio di questa sera è dalla Calabria alle stelle. Ma io lo definirei veramente un salotto fra amici per omaggiare il grande Gianni Versace questa sera. È un'occasione bellissima per celebrare questo grande artista calabrese, ma famoso in tutto il mondo. La cosa più bella è che comunque se si legge un po' la storia di Gianni Versace la cosa che ammiriamo di più è il fatto che comunque nasca da umili origini ed è diventato un esempio a livello mondiale. Prezioso il contributo dei giovani stilisti che guardano al mondo della moda con interesse ed entusiasmo. La sua storia della moda ha regalato e ha dato anche un grande fatto diciamo è riuscito a dare molto nel settore della moda. Penso nella mia idea grazie a una grande sperimentazione anche a livello molto di laboratorio di artigianato unendo il più possibile tessuti e materiali di qualsiasi genere affinché proprio si riesca a creare anche combinazioni nuove. Gianni Versace riuscì a dare vita anche a cose inanimate sculture e opere della Magna Grecia come la testa della Medusa che divenne il simbolo della propria maison. Il volto di Medusa in sostanza non è più il volto di Medusa conosciuto dai più. Medusa è conosciuta dai letterati dai professionisti da coloro che hanno studiato diciamo ma nel mondo il volto di Medusa è il volto di Versace. Versace venne assassinato a Miami il 15 luglio del 1997 all'età di 51 anni al funerario in Florida il 18 luglio nessun rappresentante del governo italiano era presente così come quattro giorni dopo nel Duomo di Milano dove invece erano presenti Lady Diana Elton John Sting Naomi Campbell solo il vice premier di allora Walter Veltroni inviò un telegramma alla famiglia. Ed ora le previsioni del tempo come sempre a cura di trebiameteo.com Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato San Silvestro ultima giornata di questo 2022 con l'anticiclone africano a interessare l'Europa meridionale anche l'Italia e ciò non toglie infiltrazioni di aria un po' umida dal Mediterraneo a investire il nord e la Toscana. Gli effetti li possiamo vedere con la prossima grafica un po' di nuvolosità irregolare ancora sull'alto versante tirrenico e sulle regioni settentrionali bel tempo invece al sud con clima mite. La prossima immagine ci conferma qualche goccia di pioggia non esclusa sulla Venezia Giulia il Levante Ligure e poi verso sera Ovest Lombardia. Diamo uno sguardo in sintesi alla mappa dell'Italia abbiamo già parlato della nuvolosità irregolare al nord e sulla Toscana mentre restanti zone del centro-sud con sole e soprattutto temperature più da primavera che da vero inverno. I dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.